Benvenuti in questo nuovo video, è Federico che vi parla il primo video della seconda playlist, quella avanzata, sugli esercizi di pianificazione se non avete visto la prima playlist è propedeutica cioè nel senso che questi esercizi qui andranno a implementare tutte quelle cose che abbiamo imparato nella prima playlist per effettuare questi esercizi un po' più complessi un po' più vicini alla realtà, tra virgolette, nel senso che questi esercizi qui sono delle problematiche reali che potreste trovare in volo e molto probabilmente faranno parte anche degli esercizi in sede d'esame andiamo a vedere il primo esercizio, farò tre video, ognuno per ogni esercizio perché hanno bisogno di una buona spiegazione il primo esercizio, quello che andremo a trattare oggi, ci dà questi dati abbiamo una ground speed di 133 nodi una distanza da percorrere di 180 miglia e un consumo orario di 12 galloni usa all'ora dobbiamo calcolare il consumo totale in litri allora, questi esercizi sono da scomporre nel senso che, se noi vediamo questo esercizio qui vediamo questo, ci chiede il consumo totale in litri la prima cosa che salta all'occhio è che il consumo orario lì noi ce l'abbiamo in galloni usa e ce lo chiede in litri quindi, alla fine della fiera dovremmo fare una conversione tra galloni usa e litri ok, poi, che cosa abbiamo? abbiamo la ground speed e abbiamo la distanza io procedo in questa maniera qui praticamente abbiamo una velocità di 133 nodi orari e una distanza da percorrere di 180 miglia quindi, sicuramente a 133 nodi orari dovremmo percorrere cioè il tempo sarà maggiore di un'ora dato che abbiamo appunto 133 nodi in un'ora e dobbiamo percorrere 180 miglia quindi noi mettiamo come presupposto che dovremmo percorrere almeno un'ora poi togliamo da quelle 180 miglia 133 nodi che è quelle che noi percorriamo in un'ora per calcolarci il restante parte quindi facciamo questa operazione faccio la calcolatrice scusate ecco qui abbiamo 180 miglia meno 130 no, scusate meno 133 nodi e abbiamo 47 miglia rimanenti 47 miglia rimanenti a questo punto cioè quindi la prima parte quella lì di guardare l'esercizio e dire ok la nostra velocità di 133 nodi orari la nostra distanza da percorrere sono 180 miglia quindi sarà sicuramente più di un'ora mettiamo un'ora come presupposto e ci calcoliamo togliendo da queste 180 miglia i 133 nodi le 133 miglia praticamente che abbiamo percorso in quell'ora e abbiamo 47 miglia adesso il nostro scopo è quello di calcolare quale tempo a 133 nodi orari scusate noi percorreremo quelle 47 miglia quindi andremo a fare questa operazione qua faremo 133 diviso 60 e vedremo e vedremo andremo ad immaginare il tempo che ci vorrà diciamo che 30 minuti 30 minuti percorreremo 66 miglia ne dobbiamo percorrere 47 quindi è di meno quindi andiamo a ripetere 133 diviso 60 per diciamo 25 minuti e 55 è ancora un po' troppo ma di meno quindi che cosa andremo a fare? andremo a fare per 20 133 diviso 60 per 20 ci siamo quasi 44 però non siamo proprio vicinissimi perché abbiamo 47 quindi che cosa andiamo a fare? andiamo a perfezionare la cosa andiamo a fare 133 diviso 60 per 22 ok abbiamo 48 quindi abbiamo visto che più o meno siamo tra i 20 e i 22 minuti per percorrere quelle famose 47 47 miglia che facciamo adesso? sappiamo che abbiamo percorso sicuramente un'ora più questi 21 minuti 22 minuti 21 minuti e ci andiamo a calcolare il consumo orario in galloni come ce lo andiamo a calcolare? allora sappiamo che dobbiamo percorrere un'ora e 20 di volo un'ora e 21 di volo prima di tutto un'ora di volo un consumo orario quindi un'ora di volo sarà 12 galloni 12 galloni più i 21 minuti come ci calcoliamo i 21 minuti? in questo modo qui sempre nella stessa maniera prendiamo i 12 galloni li dividiamo per 60 quindi abbiamo il consumo al minuto di carburante e li moltiplichiamo per quei 21 minuti e abbiamo 4.2 quindi più 4.2 12 che è il consumo in un'ora più 4.2 che è il consumo in in 21 minuti che ci siamo calcolati per percorrere quelle famose 47 miglia rimanenti abbiamo scusate un consumo orario di 16,2 galloni per percorrere queste 180 miglia queste 180 miglia adesso diremo ok siamo arrivati alla conclusione però ricordiamoci quello che abbiamo visto precedentemente ci chiede di calcolare il consumo totale in litri quindi dobbiamo fare questa conversione da 16,2 galloni a litri come la facciamo? se avete visto la playlist precedente sapete come fare praticamente prendiamo il regolo mettiamo nella scala interna mettiamo litri andiamo ad opporre a US gallons US gal e andremo a leggere sulla scala esterna perché abbiamo i galloni appunto da convertire in litri 16,2 che più o meno è intorno ai 61 o 62 litri di carburante quindi noi andremo a il nostro consumo totale per percorrere queste 180 miglia sarà di 62 litri la cosa importante da capire è come approcciare l'esercizio cioè nel senso se voi notate noi abbiamo messo insieme svariate cose che abbiamo imparato nella prima playlist la prima cosa abbiamo calcolato da quelle 47 miglia chiaramente la logica ci dice prima di tutto che se noi andiamo ad una velocità di 133 nodi all'ora e la distanza è di 180 miglia chiaramente andremo sicuramente il nostro tempo sarà maggiore di un'ora se nel caso fosse stato per esempio 300 miglia da percorrere a 133 nodi sappiamo che comunque andremo a percorrere andremo a livello di tempo andremo a percorrere in più di due ore quindi noi mettiamo come base due ore e poi ci andiamo a togliere i minuti quindi 180 miglia a 133 nodi facciamo un'ora togliamo quelle 180 miglia togliamo i 133 nodi che è quell'ora che noi abbiamo passato in volo e ci andiamo a calcolare cercando di approssimarlo i minuti rimanenti e noi abbiamo calcolato vi ho fatto vedere durante l'esercizio più o meno come fare abbiamo visto prima per 30 minuti abbiamo visto che era troppo abbiamo visto per 25 era ancora troppo abbiamo visto per 20 e più o meno era lì vicino poi se vogliamo andare ancora più se vogliamo essere ancora più precisi cosa che per gli esercizi di base non serve più di tanto perché noi adesso abbiamo il risultato di 62 litri ma nell'esercizio non avremo 60, 61, 62 63 come risposte avremo casomai un 62 un 55 un 40 e un 72 quindi diciamo che l'approssimazione ai 20 minuti è già perfetta per quanto riguarda gli esercizi comunque ci siamo calcolati che diciamo in queste 180 miglia le percorreremo in un'ora e 20 minuti e a quel punto andremo a fare la stessa operazione che abbiamo fatto negli esercizi precedenti nella playlist precedente sui galloni quindi 12 galloni in un'ora 12 galloni più 21 minuti che noi andremo a fare cosa a dividere i galloni per 60 in modo tale da avere il consumo al minuto il consumo non orario non in un'ora ma in un minuto e li moltiplicheremo per i minuti che ci siamo calcolati precedentemente a quel punto abbiamo 16,2 galloni che è il carburante necessario per percorrere queste 180 miglia scusate in galloni però e lì l'esercizio vi chiede di calcolarlo in litri chiaramente se voi vi scordate questa cosa non ci sarà niente che sarà nelle risposte non ci sarà niente che sarà vicino a 16,2 perché è troppo poco e vi accorgerete che dovete effettuare quest'ulteriore conversione che è molto molto diretta e alla fine non non crea problematiche cioè bisogna semplicemente mettere sul regolo i galloni e litri appaiati e poi andarci a leggere sulla scala dei galloni quanti litri quanti litri di carburante avremo quindi sono 62 61 litri più o meno è una cosa chiaramente abbastanza approssimata però anche abbastanza precisa se ci pensate partendo da tutto questo questo è il primo esercizio datemi qualche feedback e vediamo un pochettino come va io vi ringrazio per essere stati a essere stati a sentire diciamo la mia spiegazione e iscrivetevi mettete like se vi è piaciuto chiaramente e al prossimo video apriamo altri due video arrivederci un pochettino